Forse l'atteso chiarimento con il gruppo Insieme L'Aquila dopo la defenestrazione dell'assessora alla cultura Sabrina Di Cosimo potrebbe arrivare martedì prossimo in occasione del primo consiglio comunale dopo il voto regionale del 10 febbraio. Per ora bocche cucite, telefoni spenti o che squilano a vuoto quelli del sindaco Pierluigi Biondi che comunque sembrerebbe essere a letto con l'influenza del consigliere di Insieme per l'Aquila Roberto Junior Silveri, del vice sindaco Guido Liris, del consigliere capogruppo di Fratelli d'Italia Giorgio De Matteis che da mesi chiede un azzeramento dell'aggiunta che adesso diventa per l'ex vicepresidente vicario della regione obbligatorio. All'indomani della cacciata di Di Cosimo, bollata da Paola Federici, candidata con più abruzzo alle recenti elezioni regionali come una vera e propria revoca di genere, comincia a prendere forma il nuovo esecutivo comunale. A volere un posto in giunta sono in molti, soprattutto per le quote rosa lasciate da Di Cosimo e in precedenza da Anna Lisa Di Stefano, anche lei defenestrata da Biondi nel momento in cui ha espresso il suo sostegno ad Antonio Martino agli albori della campagna elettorale. A restare vacante potrebbe essere anche l'altro pesante assessorato, quello ai trasporti e alla mobilità, oggi detenuto da Carla Mannetti, corteggiata dal presidente della regione Marco Marzilio che la vorrebbe direttore generale dell'ente. Si fa anche il nome di Erzilia Lancia in quota Fratelli d'Italia, che potrebbe prendere il posto di Monica Petrella alle politiche giovanili. Biondi dovrà sostituire anche il vice sindaco Liris, eletto in regione, oltre agli assessori della Lega Emanuele Imprudente, anche lui pronto a passare all'emiciclo, e al consigliere Luigi Deramo che rassegnerà le dimissioni a breve per dedicarsi all'incarico di parlamentare. In giunta resterà Alessandro Piccinini di Fratelli d'Italia. La Lega sostituirà probabilmente Deramo Imprudente con l'attuale capogruppo Daniele Ferelle, contiziana del Beato, forte del risultato ottenuto quest'ultima alle elezioni regionali. In giunta dovrebbe entrare anche Vito Colonna del gruppo Insieme per l'Aquila. Una casella resterà ai civici di L'Aquila Futura, al posto di Francesco Bignotti, attuale assessore al sociale che dovrebbe fare un passo indietro, si valuterà se promuovere Luca Rocci. Il capogruppo dell'Udc, Raffaele Daniele, potrebbe vedersi affidare le deleghe di Liris, opere pubbliche e vice sindaco. Intanto, dopo la tiepida solidarietà espressa a Di Cosimo dal gruppo consigliare in comune Insieme per l'Aquila, l'ex assessora, sempre più sola, fa intendere di non voler lasciare senza conseguenze il suo licenziamento e pubblica sul profilo Facebook il celebre passaggio dell'opera buffa di Gioacchino Rossini sulla calugna, palesemente in riferimento ai toni usati dal sindaco nel suo comunicato stampa di revoca.